Allora, Nicolás, primi giorni di ritiro, come procede qui in Sile? Bene, stiamo lavorando bene, stiamo facendo un ottimo lavoro, è una struttura dove ci permette di lavorare sicuramente al meglio. Abbiamo appena iniziato ma c'è tanta voglia, c'è tanta voglia di metterci ognuno il suo per arrivare all'inizio del campionato della migliore maniera. Sicuramente sappiamo che abbiamo una buona base, dobbiamo ripartire di quello che si ha fatto gli ultimi mesi dell'anno scorso. Penso che dobbiamo essere consapevoli che abbiamo finito un campionato in grande forma, quindi dobbiamo cercare di riprendere quello che abbiamo lasciato. Il campionato, sicuramente come tutti i campionati di Serie B, sarà un campionato duro, difficile. Noi ovviamente giocheremo sempre per vincere e cercheremo di far giochere anche ai nostri tifosi Sì, perché sicuramente se lo merita. Sì, sicuramente avere al ministro, al suo staff, penso che sia un vantaggio perché già conosciamo tanti tanti lavori e tante maniere di allenarsi che sono particolari. Poi sicuramente i ragazzi che sono arrivati sono ragazzi che si hanno messo subito a disposizione, hanno tante voglia di crescere e di imparare. Saremo noi a cercare di aiutare loro e saranno loro a cercare di dare una mano alla squadra.